Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Eh sì, buonasera, sono Rossella Mesto del Comitato San Giorgio Mare. Salve. Buonasera. Avevate chiesto un bilancio 2010 ai cittadini, eccoci qui, da San Giorgio, sempre presenti. Possiamo testimoniare. Ok, vero, è perfetto. Sempre, sempre presenti. Allora, bilancio 2010, diciamo io posso fare un bilancio per i due anni della mia presidenza a Comitato. Sì. Una presenza in campagna elettorale abbastanza presente da parte di tutti, destra e sinistra. Una dimenticanza da parte di tutti, destra e sinistra. Il Comitato è a partitico, è a politico, anche se fa politica in primo piano con i cittadini del quartiere. Però assolutamente un bilancio non negativo, ma fermo, bloccato. Bloccato dalla mancanza dei fondi, bloccato da soldi, patto di stabilità, bloccato da impossibilità, probabilmente, sempre di finanza. Questo è il nostro bilancio. Speriamo solo nel 2011 in un miglioramento, almeno nei progetti per il quartiere. C'era forse qualche intervento davvero molto piccolo rispetto a un grande intervento di riqualificazione. Ebbe modo di menzionarlo il consigliere De Caro qualche tempo fa, proprio in questa trasmissione. Non so se sono già iniziati i lavori, lei magari avrà più contezza. Questo no, infatti ci confermò che c'era in bando questi 200 metri di muretto e marciapiede rispetto, ovviamente, ai due chilometri della costa di San Giorgio. Questo non significa che verrà rifiutato assolutamente un buon inizio. Però non è solo il muretto e il marciapiede, il quartiere. Abbiamo chiesto anche noi la differenziata, perché avendo anche delle case e con dei giardini avremmo potuto avere i bidoni all'interno. Abbiamo parlato con l'AMIU, ma sono sempre grandi progetti che vengono messi da parte, perché ovviamente ci sono delle esigenze diverse, più grandi, me ne rendo conto. Io la domanda che spesso mi pongo da cittadino, non da comitato, è il perché spesso si tende a migliorare sempre un quartiere già in espansione, come anche quello di Iapigia, per l'amor di Dio, fa parte della nostra circoscrizione, quindi va bene. Però quando invece poi viene tralasciata ogni forma di periferia della città, per anni e anni e anni interi rispetto, ecco, abbiamo visto crescere Iapigia forse negli ultimi dieci anni in maniera molto espansiva, e invece è lì, ormai da trent'anni, è San Giorgio in quelle condizioni. E questa, ripeto, è una domanda che spesso mi pongo io personalmente come cittadino. Oh, San Paolo, il San Paolo idem è cresciuto tantissimo in questi ultimi anni, e nuovamente dei fondi o delle ricchezze per quartieri già in espansione. E questo a volte non riesco, spero che Babbo Natale mi dia una risposta, mi lasci una letterina sotto l'albero, con una spiegazione. Non vorrei insinuare che l'assessore Giannini assomiglia Babbo Natale. Sì, sì, un po', mettendoci un po' di barba bianca e qualche capello in più. C'è il sindaco emiliano che la senterà. E forse più il sindaco. Ovviamente immaginiamo quali siano le prospettive per il 2011, che cosa chiedete all'amministrazione comunale, credo che sia abbastanza prevenibile. Per questo, perché comunque al di là di tutto nel bilancio ci metterei la buona comunicazione che stiamo avendo comunque con l'amministrazione, anche se è impossibile sempre parlare con tutti, sindaco e spesso assessori. O quando si parla si dice, eh ma non ci sono soldi, eh ma fondi non ci sono. Possiamo prenderci anche noi un po' di merito, perché credo che noi siamo stati anche, abbiamo sostenuto abbastanza la nostra causa. Infatti avete già in possesso la nostra videolettra, che è pronta anche per partire, indirizzata al sindaco e quindi voi sarete i primi, avrete questa... Sarà una bella accoglienza per il 2011, per il sindaco emiliano. Perfetto, solo questo. E approfitto a fare gli auguri a tutti quanti, a ringraziare tutti gli appassionati alla nostra causa di San Giorgio, residenti, villeggianti e telebari. Grazie mille, tanti tanti auguri, buon Natale e buon anno. Arrivederci. 080-501-999-8 per intervenire in diretta, ne abbiamo parlato tante volte, però credo che la riqualificazione di San Giorgio debba essere uno dei punti da porre all'attenzione dell'amministrazione emiliano per i prossimi anni. Io vorrei soffermarmi su un aspetto che ha toccato la signora. Non è vero che l'amministrazione comunale torna sempre sugli stessi quartieri, perché con questa iniziativa che abbiamo messo in campo con questi piani di riqualificazione abbiamo toccato un po' tutta la città, da Iapigia a San Girolamo, al San Paolo, a Carrassi San Pasquale. È ovvio che l'iniziativa dell'amministrazione comunale è possibile laddove la stessa amministrazione ha delle aree di proprietà che può mettere nel piano di riqualificazione e utilizzarle per le permute da fare con i privati che investono i loro capitali. Dove non ci sono aree di proprietà comunale diventa difficile intervenire. Ad ogni buon conto, al di là delle difficoltà di reperimento delle risorse, almeno dal mio punto di vista, diciamo come assessore alle politiche abitative, utilizziamo questo canale, verificherò se c'è la possibilità di mettere in piedi un piano di riqualificazione col sindaco, lo farò, se c'è la possibilità di mettere in piedi un piano di riqualificazione che riguardi l'area di San Giorgio. E questa sarà una delle prime risposte che daremo magari nel 2011. Insomma, c'è l'impegno e la predisposizione a farlo. Assessore, c'è una grande incompiuta che si può definire, una sorta di... Possiamo definirlo? Ce ne sono tante. Ce ne sono tante, però un insuccesso dell'amministrazione. Probabilmente è stato sicuramente il parcheggio di Piazza Cesare Battisti, che avrebbe dovuto essere consegnato nel 2010, invece non sarà così. La consegna slitta a marzo, secondo previsioni rosi, almeno stando anche a chi convive quotidianamente ormai da sei anni con quel cantiere che divide in due le parti della città, con buona pace di residenti e commercianti che ormai si sono un po' rassegnati all'idea di dover convivere con questo cantiere. La questione che si è sempre posta, come mai a fronte di questi ritardi non c'è mai stata una penale, un'azione di forza nei confronti di un'impresa che comunque non ha rispettato i tempi, quando invece l'amministrazione ha teso la mano nei confronti di questa impresa, nel momento in cui ha subito giustamente dei pregiudizi per lo stop vari. Poi la storia delle Piazza Cesare la conoscono un po' tutti. Lo specifico non mi è noto. Però si tratta di una vicenda che innanzitutto va sempre sottolineato. noi abbiamo ereditato dall'amministrazione precedente perché quella scelta la nostra amministrazione non l'avrebbe mai fatta e io che sedevo sui banchi dell'opposizione all'epoca mi sono opposto inutilmente alla sottoscrizione del contratto per la realizzazione di quel parcheggio. E poi c'è stato un intervento dalla magistratura che ha dilatato i tempi fino a che non si è definita la questione e adesso non conosco bene le ragioni dell'ulteriore ritardo ma credo si tratti di questioni di carattere tecnico e ormai siamo quasi alla fine ma con i commercianti della zona l'amministrazione comunale ha sempre avuto un'interlocuzione fattiva e diciamo anche fatta di disponibilità. Questo è diventato anche un cavallo di battaglia dell'opposizione se vogliamo giustamente nel senso che noi siamo andati spesso a sentire i residenti e i commercianti e devo dire gli umori non sono dei migliori anche perché ricordiamo che lì c'è stato un tasso di mortalità notevole per quanto riguarda gli esercizi commerciali. Quindi al momento i pregiudizi maggiori stanno pesando sulle spalle dei cittadini che continuano a pagare purtroppo per questi disagi. Mi sembra davvero originale il fatto che chi ha causato questi disagi e queste sofferenze oggi si faccia al fiere della legittima protesta dei cittadini e dei commercianti della zona. Ognuno ovviamente fa il proprio ruolo, magari l'ha fatto anche lei quando stava l'opposizione. No, 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 ma ci vuole anche pudore. C'è un'altra questione che volevamo sottolineare che ci è stata sempre segnalata da alcuni cittadini. C'è un contratto di manutenzione affidato ad un'azienda che dovrebbe occuparsi di mettere online e di trasmettere le dirette del Consiglio Comunale in streaming. Da una verifica che abbiamo fatto, effettivamente questo non avviene neanche alle sedute più prossime quelle registrate vengono inserite nel sito soltanto dopo molto molto tempo. Come mai? No, e questo non sono in grado di rispondere a questa domanda. Lo faremo nella prossima puntata. Sarà una questione di cui ci occuperemo perché tra l'altro sono molti cittadini che hanno sollevato questo problema. Magari si farà carico anche di affrontarlo. Facciamo la verifica e poi... Anche nel nome della trasparenza. Grazie.